Aspetta, aspetta, al numero 21, aspetta, aspetta, a cosa? Al numero 21, dico. Ah, prego, oh, vediamo se c'è, vediamo se c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Allora, comunque ci sono otto giolli, quindi non è difficilissimo, eh, ce ne sono di giolli. Allora, proviamo, proviamo, perché c'è quest'altra signora che gioca, io faccio il giro, e allora, questa signora che si chiama? Carla. Come? Carla. Carla. Allora, signora Carla, vorrei dare un piccolo aiutino. Non lo so, mi sta simpatica, non che le altre non mi stavano simpatiche, però mi è venuto adesso. Le do un piccolo aiutino. Facile, facile, allora lo faccio proprio facile, facile, facile. Il numero dove è nascosto il giolli, segna la maggiore età, avanti, segna la maggiore età, avanti. 18. Vediamo, vediamo se c'è il 18, anche se quasi sicuro. Aspetta, aspetta, cos'è? Al 18, aspetta, aspetta, proviamo, proviamo. Vediamo se c'è. C'è il giolli. C'è il giolli. Buon sparo. È il costume. Laura Blu. Laura Blu va alla signora Carla. Applauso per la signora. Cappé pagato. Carla. Io ritorno, ritorno sul palco, faccio il giro perché a salire non è così semplice. Bene, ci siamo, ci siamo quasi. Io intanto voglio ricordare che la vincitrice di questa sera andrà direttamente alle fasi regionali. Fasi regionali che si svolgeranno a partire d'agosto, noi saremo in giro per tutta la Puglia e anche le altre vincitrici, le altre fasciate di questa sera andranno alle fasi regionali. Quindi prima classificata approderà direttamente. Io intanto voglio salutare le telecamere di Teleradio R che sono da questa parte. Facciamo un saluto. Ciao. Perché ci hanno seguito anche qui. A Vieste, Amedeo è già sul palco. Dobbiamo parlare anche di Teleregione perché lunedì parte una trasmissione importantissima che si chiama Tutti i pazzi per la Miss. In onda il lunedì alle ore 15, il martedì alle ore 15, il giovedì alle ore 15, il giovedì alle ore... Il venerdì alle ore... E non solo, perché solo il venerdì c'è il doppio appuntamento. Doppio appuntamento. Sia alle ore 15 che alle ore 19 e 30. Quindi da non perdere. Da non perdere. Da lunedì, eh, mi raccomando. Teleregione. Dobbiamo andare avanti perché stiamo arrivando al momento più importante della serata. Stiamo per celebrare la reginetta di Vieste. Però prima di farlo chiamerei qui sul palco chi ci ha tenuto compagnia con la sua arte, chiamiamola così. Quindi è il momento di presentare la nostra prima donna. Lei è una straordinaria ballerina ma anche una bellissima ragazza, come abbiamo potuto vedere. Signore e signori, Alessia Giampietro! Eccola qui! Alessia Giampietro! Eccola qui, Alessia. Grazie mille, Alessia. E se tu hai chiamato Alessia, io chiamo l'altro componente del nostro staff. Signore e signori, Gianluca Giugliarelli! Gianluca! Cosa fai, Gianluca? Non ti si attisce la passerella, Gianluca. Gianluca! Gianluca, ma sei vestito di nero perché il nero... Il nero sfida. Sfina? Ecco, un applauso a Miss... Gianluca Giugliarelli! Grazie Gianluca! Prego! Ci siamo! Ci siamo!